Centro-destra Lombardo verso le primarie di coalizione, obiettivo compattezza in vista delle regionali di febbraio con qualche variabile, la più grossa delle quali risponde al nome di Gabriele Albertini. Vertice ad Arcore in queste ore a casa Berlusconi dove è volato il coordinatore regionale del PDL Mario Mantovani. Berlusconi conferma che lavorare con la Lega è indispensabile, dice Mantovani, che spiega come l'ex premier, anche se non un gran fan delle primarie, non si è detto contrario. In queste ore ogni nodo dovrebbe essere sciolto, il PDL inviterà Albertini a partecipare alla consultazione popolare come esponente del partito, se però l'ex sindaco di Milano dovesse continuare con l'idea della lista civica potrebbe trovarsi solo. In questo caso il PDL dovrà trovare un candidato da contrapporre al leader del Carroccio Roberto Maroni, in lizza il presidente della provincia di Milano Guido Podestà. Difficile comunque che Albertini accetti l'ultimatum. Dal Carroccio Maroni conferma la disponibilità alle primarie, sono un bagno di democrazia, dice, che fa bene come dimostra il PD, più che dire che sono disposto a correre non posso fare. Intanto in casa centrosinistra la macchina si è messa in moto e adesso, dicono tutti, la corsa è davvero partita. Cambia solo il nome da primaria della coalizione a primaria del patto civico, ma primaria saranno. Si voterà dunque per il candidato del centrosinistra al Pirellone il 15 dicembre, dalle 8 alle 20, aperte fino a domani le iscrizioni alla corsa. Al momento in lizza è noto Umberto Ambrosoli, Alessandra Custerman, Andrea Di Stefano e Roberto Biscardini.